Lunedì 7 giugno il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha tenuto l'ultima lezione in streaming per questo ciclo della Scuola Sociopolitica Diocesana Giuseppe Toniolo sul tema Il Servizio Sanitario Nazionale dopo il Covid-19. Gli incontri della scuola che quest'anno ha preso il via a marzo sono stati incentrati sulla dimensione del prendersi cura per leggere importanti questioni sociali ed economiche alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa.